Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Rocco Commisso parla dagli Stati Uniti Firenze è la città più bella del mondo ha iniziato a raccogliere fondi quando alcuni dei membri di ACF Fiorentina sono risultati positivi e devo dire che fortunatamente tutti ne sono usciti solo 4-5 di loro hanno necessitato dell'ossigeno ha detto il patron Viola siamo rimasti spiazzati dall'ammontare dei contributi in favore di forza e cuore intervistato dal Corriere della Sera Gaetano Castroviglia ha parlato del suo rapporto con Firenze e la Fiorentina la città è meravigliosa e mi ha accolto benissimo ha affermato la rivelazione Viola mi sento molto legato alla Fiorentina alla gente che mi sostiene al presidente Commisso sempre pronto a riempirmi di elogi mica è facile avere un feeling così naturale e immediato per Giacomo Buonaventura si sono mosse Torino, Lazio, Fiorentina e Napoli secondo Tutto Sport la scelta del giocatore dipenderà molto da quale dei quattro club gli garantirà un posto da titolare e in questo senso per adesso i Granata sembrerebbero i più convincenti i Viola che stanno portando avanti un processo di rafforzamento del mercato di gennaio restano alla finestra per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi